All'indomani della vittoria a Casalinga contro il Francavilla per 2-0, grazie al primo gol in rossazzurro di Michael Negro e alla seconda marcatura stagionale di Atteo, il Casarano del tecnico Vincenzo Feola, tre punti pesantissimi che al netto del terzo pareggio consecutivo del Sorrento permette alle Serpi e al Taranto di piazzarsi sulla vetta della gradatoria in concomitanza con i costieri. La gara, disputata sotto un leggero sole, poi svanito nell'ultima mezz'ora per far spazio a un leggero freddo natalizio, sembrerebbe essere stata la bella copia della trasferta federiciana di pochi giorni fa, con i padroni di casa che nonostante avessero le chiavi del gioco si sono portati in vantaggio solo dopo il decimo della ripresa, causa uno scarso cinismo e tempismo sottoporta. Se nel primo tempo Negro a portiere battuto calcia lentamente sul secondo palo con il piattone e Tascone si vede annullare un gol per posizione di fuorigioco, nella ripresa l'atteggiamento più intraprendente degli uomini di Lazic ha permesso al Casarano di trovare maggiori varchi e dunque anche la via del gol. Diverse le occasioni gettate al vento da Sansone prima e Rodríguez poi, stesso discorso vale dal canto opposto, dove i Lucani nel primo tempo a più riprese hanno sfiorato il gol sorpresa. Ciò nonostante i soldati di Feola hanno aggiunto un'altra vittoria di Pirro e Mbacheca, la quale potrebbe rivelarsi importante a fine anno per il successo finale. Ora testa al Molfetta e occhio vigile al mercato, come dichiarato poche ore fa dal DS Marcello Pitino.